Perché l'evento ipnotico, vorremmo precisare, non solo si essenzializza nella realizzazione di una fenomenologia tipica dell'ipnosi classica in sostanza, ma si manifesta anche attraverso possibili aspetti comportamentali. Di vita quotidiana proprio. Di vita quotidiana e mi spiego. In altri termini voglio dire che se io sono coinvolto, se io sono innamorato per esempio, agirò in un modo verso questa persona diverso da come avrei agito nei confronti di un'altra persona di cui non ero innamorato. Insomma questa differenza comportamentale sta a evidenziare un flash ipnotico in sostanza, ossia un qualcosa che ci permette di agire in un modo diverso. Grazie a tutti.